Dalla pagina Facebook di Maria Di Nolfi del 21 agosto 2024. Youth School e Subalternità Culturale. Sia nel 2022 che nel 2023 l'Italia è stata il paese europeo che ha concesso più naturalizzazioni. Sono diventati italiani 213.000 stranieri nel 2022, 230.000 nel 2023. Antonio Tajani si fa intervistare da Repubblica per dirsi favorevole allo Youth School ed accordo dunque con la proposta del PD di dare la cittadinanza italiana a 10 anni ai bambini stranieri che abbiano fatto le scuole elementari da noi. Oggi possono presentare la domanda di cittadinanza con percorso agevolato al compimento dei 18 anni e prima di compierne 19. Il boom di naturalizzati italiani si deve al numero sempre più massiccio di stranieri che diventano maggiorenni. Gli italiani non fanno più figli e così oggi il 12% della popolazione è straniera o naturalizzata. I minori stranieri extracomunitari e i minori italiani hanno tutti gli stessi identici diritti rispetto a scuola, sanità, assistenza e movimento. C'è una piccola differenza nei viaggi all'estero. I cittadini italiani hanno la libera circolazione nei paesi dell'Unione Europea. Al di là di questa differenza, i diritti dei minori residenti in Italia sono identici. C'è bisogno di allargare ulteriormente le maglie della concessione della cittadinanza italiana, la cittadinanza in assoluto concessa con più facilità in Europa, visti i numeri che sono incontestabili? Nessun paese europeo adotta lo ius scuole e ci sarà una ragione. La Grecia ha uno ius culture basato su sei anni di frequentazione delle scuole e conoscenza della lingua. Perché settori sempre più ampi della maggioranza di governo si fanno attrarre dalle proposte delle sinistre? A che cosa è dovuta questa subalternità culturale? Meloni grida, la 194 non si tocca. Zaia vuole l'eutanasia. Marina Berlusconi detta la linea sui diritti come il PD. Tagliani vi si adegua. Nel frattempo, la convention dei dem americani conferma sull'asse Clinton-Obama-Harris le due differenze fondamentali dai repubblicani del ticket Trump-Vance su cui si giocheranno le elezioni presidenziali di novembre. Aborto e immigrazione. Il valore che si assegna alla vita degli esseri umani è al concetto di cittadinanza. Una volta si sarebbe detto di patria, parola cacciata tra quelle ormai impronunciabili. È assolutamente il tratto distintivo che caratterizza i due campi politici che si confrontano ovunque. Solo da noi prevale questa poltiglia, la continuità di governo nell'indistinzione che fa sì che francamente sia per me difficilissimo distinguere i due anni di governo Meloni dai due anni di governo Draghi. Anzi, ora che ci penso, nel biennio Meloni ci sono state meno nascite che nel biennio Draghi. Più nascite di stranieri e più naturalizzazioni, più concessioni di cittadinanze. In più, il 2023 è il primo anno in cui si sono verificati casi di suicidio assistito in Italia, anche se la sentenza della Corte Costituzionale che lo ha parzialmente depenalizzato è antecedente al governo Draghi, è del 2019. Gli aborti sono sempre più di 60.000 all'anno in un'Italia che ha disperatamente bisogno di file. Nulla è stato fatto dal governo per limitarli. I repubblicani americani lo hanno di fatto abolito in 14 stati in cui governano. Un po' come i conservatori britannici che dal governo hanno vietato l'uso dei bloccanti della pubertà per preparare i minori al cambio di sesso. Da noi il governo ha disposto un'ispezione per poi stabilire che si può continuare a somministrare triptorellina ai bambini tra i 10 e i 12 anni. Guardassi i dati dovrei dire che è un governo di sinistra. Forse se vince Trump faremo qualcosa per la pace in Europa. Ci sfileremo dalla dottrina Demme di fornire armi per miliardi di dollari per infiammare il conflitto che ci sta portando sull'urlo del baratro. Ma se aspettiamo un segnale autonomo di discontinuità da questo governo rispetto al precedente hai voglia ad aspettare. Destra e sinistra italiane sono avviluppate in un'unica insopportabile melassa derivante dal mero interesse per la gestione del potere. Ogni tanto partano campagne senza senso su fascismo e antifascismo che di solito sono preparatorie alla spartizione dei posti in Rai o nelle altre controllate dallo Stato. Per il resto nel territorio del concreto governo della comunità nazionale non si avvertono differenze. Tutto questo accapigliarsi sui social tra opposte fazioni appare così ancora più ridicolo di quanto il tifo acritico abitualmente non sia. Sarebbe bene tornare a discutere con l'intelligenza delle singole questioni. E chiunque sia intelligente capisce che dividersi sullo ius skole è una sciocchezza estiva eppure ci piace così tanto ingaggiare battaglie inutili e senza senso. Bisognerebbe liberarsi dalla subalternità culturale verso i diktate ideologici della sinistra, costruire una visione del futuro che sia alternativa ad essa. Ma schiacciati dalle esigenze del qui ed ora, della mera amministrazione del potere, questa visione valoriale diversa non interessa a nessuno edificarla. Meglio rincantucciarsi nella melassa indistinta, in questa notte in cui tutte le vacche sono nere. Meglio rincanto